E allora vi chiedo solo un momento per presentarvi Cine Sud Foto Magazine, la piattaforma online di informazione fotografica. Perché iscriversi alla newsletter di Cine Sud Foto Magazine? Perché chi frequenta la fotografia a qualsiasi titolo, forse ha bisogno di sapere tutto quello che in questo magazine tutti i giorni, puntualmente, viene scritto. Sono circa 100, tra professionisti, amatori, aziende, testimonial, che hanno aderito a Cine Sud Foto Magazine. Con loro puoi conoscere il loro lato umano, il rapporto con la fotografia, puoi vedere le proprie rubriche, puoi commentarle, puoi assistere alla presentazione dei libri, puoi assistere ai workshop che settimanalmente vengono tenuti sul nostro magazine. Cine Sud Foto Magazine forse è proprio quello che mancava, è forse proprio lo strumento che può esserti utile. Iscriviti subito alla newsletter. Stavo leggendo i testi, Vittorio, i testi, non tanto i testi, diciamo, di carattere più scientifico, comunque, ma i testi scritti da loro, immagino, no? Le testimonianze che avete raccolto? Sì, l'abbiamo riscritta io a Anush. A dire il vero, sta in parte di una raccolta di, credo nel libro, siano più o meno una trentina di storie. Mi pare 26 dirette, nel senso testimonianze dirette, 4 riscritture di miti locali. Sono molto belle, alcune le leggerò proprio, almeno un paio, come spunto anche per la domanda. Poi magari dopo entreremo più nel dettaglio, però sono tutte storie che abbiamo racconto noi. Sono cose che ti domanderò, più racconti del progetto e più sono felice, perché comunque è una cosa complessa. Se uno non entra dentro il mood del lavoro, magari mi piace neanche apprezzarlo, perché le fotografie sono anche abbastanza complesse. Ci hai messo tutto il tuo impegno per non farle belle, quindi dobbiamo spiegare per quale motivo. Questo resti tra noi. C'è una amica che per scherzo mi ha detto, sono felice di non essere il target di questo libro. Perché è troppo impegnativo, almeno... E poi sono poche pagine, mi pare, 400 circa. Eh sì, è leggerino, è un libro a esito. Posso fare una domanda? Certo. Ma è una domanda da persona che ha acquistato il libro. Ah, già, è una bella notizia. Grazie. Io ho acquistato l'edizione con la fotografia. Sì? Mi dici perché la fotografia non è firmata? Ah. Non ho una risposta degna. Credo che... Non ho una risposta degna, è un massimo. Non ti preoccupo. No, ahimè, ha comprato l'edizione inglese? Sì, perché Skinner Books è l'unico che fa... L'ho comprata da Skinner Books, quindi sì, è l'edizione inglese con una fotografia bella, ma non firmata. Ti tocca andare in Calabria a firmare? Non so, mi sembra... Insomma, i calabresi sono, come dire... Siamo precisi. Non sono aggressivi. No, non sono aggressivo, sono stato aggressivo. No, assolutamente. La serie, se non vieni, te menamo, insomma. No, fevuto. Lo farei con piacere di venire in Calabria, innanzitutto anche di firmare la foto. Devo dire... No, ma per me, per esempio, è stata una piacevole sorpresa sapere che stasera voi presentavate il libro, perché io che vado a, come dire, a curiosare da tutti gli editori. Mi era piaciuto il libro, mi aveva incuriosito molto, quindi sono... Purtroppo ad un certo orario me ne dovrò andare, però... Sai che sono, tra l'altro, è un doppio edizione, no? Perché l'ha stampato sia Skinner che Quadlibet, che è quello che, diciamo, ha pubblicato anche recentemente i testi di Ghirri, oltre a tanti altri libri interessanti. Per esempio, perché questa scelta dal doppio editore? Principalmente perché aveva una parte di testo rilevante, parlando di un terzo del volume stesso. È una cosa che è una delle tante novità, compreso, come hai detto tu, di cercare di fare delle foto brutte. E siccome la parte di, diciamo, di narrativa, chiamiamola così, di raccolta storie, di riscrittura delle storie, è fatta da due italiani, cioè da me e Anush, ci interessava poterla restituire nel modo in cui noi l'avamo prima raccolta e poi riscritta. E per quanti testi accademici invece siano di sei studiosi sparpagliati per il mondo e curati da un professore tedesco, franco tedesco di origine, ma italiano di adozione. Prima giapponese, poi italiano di adozione, con un lavoro certosino di tutti i suoi dottorandi sulle traduzioni, prima dal giapponese, poi dall'inglese all'italiano, ci sembrava giusto e ci abbiamo provato. Nel senso, era una nostra ambizione pensare di avere due edizioni, una che fosse quella più fedela agli scritti narrativi e una in inglese, diciamo, per la distribuzione internazionale. Nel momento in cui io ho pubblicato i tre libri precedenti, come sai Massimo, con Skinner Books, nel momento in cui abbiamo spiegato questa cosa a Milo, che è l'editore di Skinner Books, si è dimostrato disponibile, soprattutto con una divisione chiara fin dall'inizio, i quali fossero le due distribuzioni. E a quel punto, nonostante siano italiani entrambi gli editori, Skinner Books si è occupato, si occuperà della distribuzione, diciamo, internazionale e Podlibet quella italiana. Un'altra verità era insita nella natura stessa del libro, non avendo la possibilità di avere un editore, chiamiamolo, scientifico. Eravamo in trattativa con le edizioni Ca' Foscari, che sono tra l'altro un partner del progetto. che però in tempi di Covid sono, diciamo, un po' allestretta anche economicamente. La nostra ambizione era cercare di arrivare anche a un pubblico un po' diverso che non fosse quello del photobook, a cui rivolgiamo tutte le attenzioni possibili, però hanno cercato di scontentare tutti, inizio facendo un libro che probabilmente non accontenterà, sia abituato al photobook, è un libro accademico che avrà due terzi di immagini, che probabilmente il pubblico più accademico, abituato a un certo tipo di letture, troverà... Non apprezzerà come dovrà. Esatto. Quindi sono riusciti a scontentare tutti. Benissimo. Allora, io comincerai, Francesco? Non ti sento, però va bene. Allora, io vorrei leggere un attimo l'introduzione del progetto, perché magari non tutti l'hanno comprato, non tutti sanno di cosa parleremo stasera, e leggo proprio quello che mi hai mandato tu, e quindi niente di nuovo. Secondo la mappatura realizzata nel 2010 dall'UNESCO per Atlas of the World's Languages in Danger, sono circa 250 le lingue scomparse negli ultimi 50 anni e 3.000 quelle attualmente in pericolo. Scompaiono lingue a una velocità che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Quando una lingua muore, porta con sé conoscenza dell'ambiente che ha nominato per secoli, quindi piante, animali, malattie e religioni. Yonaguni, ho detto giusto, è un piccolo pezzo di terra emesso dal mare lontano da tutto e battuto dalle correnti più forti dell'Oceano Pacifico. Sull'isola, la più occidentale del Giappone, vivono non più di mille persone, poche delle quali ormai parlano ancora il Dunan, una severely endangered language, quindi una lingua a rischio serio di scomparsa, la cui sorte sembra ormai segnata. Insieme alla lingua, il mondo stesso di Yonaguni è dissolversi perché non c'è lavoro, non ci sono scuole superiori, non c'è futuro, le famiglie l'abbandonano, i vecchi muoiono e l'isola si spopola. Il volume documenta gli esiti della ricerca condotta da Anush, non leggo il cognome perché per me è difficilissimo, è Vittorio Mortarotti, tra il 2018 e il 2020, a Yonaguni, restituendo le immagini, le storie, gli ultimi bagliori di una comunità che scompare. Allora, io comincerei subito con la prima domanda perché è anche la più, come dire, forse meno interessante, ma anche quella che ci fa un po' più entrare nel progetto. Come è nata l'idea di realizzare questo progetto? In generale, che cosa ti interessa? Io adesso parlo al singolare perché ovviamente non essendoci a Janusz diventa difficile parlare al plurale, ma ovviamente tu ti puoi esprimere anche per lui. Che cosa vi interessa in particolare raccontare rispetto a questo progetto? E poi se puoi raccontare un po' tutto l'iter realizzativo, come siete riusciti per esempio a trovare i fondi per realizzare un libro così difficile e costoso. Tra l'altro stiamo parlando di un periodo difficile per tutti, proprio perché c'è stata anche la pandemia, quindi prima faccio il vicennio al fatto che c'era una casa editrice interessata ma che non aveva più soldi per pubblicare il libro, eccetera, eccetera. Perché credo sia importante per far capire quanto lavoro e consapevolezza ci sia dietro a certe scelte e soprattutto certe anche piuttosto estreme che contraddistinguono questo lavoro. Sì, perfetto. Provo in realtà a unire queste due domande raccontando un po' la genesi del progetto e del rapporto lavorativo, oltre che di amicizia tra me e Janusz, che è in fase di montaggio di un film che fa da solo. Si scusa di non essere qua e saluta tutti i presenti, come faccio anch'io. Ringrazio Massimo per l'invito e Cine Sud per l'ospitalità. Io e Janusz siamo al quarto progetto insieme, ci siamo conosciuti a Parigi anni fa, di base io sono fotografo e lui regista i documentari. Dopo una relazione d'amicizia che dura da anni ormai, abbiamo deciso di provare a collaborare per la prima volta su un progetto, anche quello già realizzato in Giappone, nel 2013. Dico questo perché quel progetto lì e altri due successivi titoli, come detto, dei tre libri pubblicati con Skinner Books, sono The First Day of Good Weather, Eden e Most Were Silent. Sono una, per quanto realizzati in momenti diversi, in luoghi geograficamente molto anche lontani, sono una specie di trilogia, cioè era una trilogia non prevista, ma che si è in qualche modo autoimposta nel momento in cui ci siamo resi conto che il terzo capitolo, che è quello realizzato in New Mexico, tirava un po' le fila, tematicamente, dei due precedenti. Il primo, che è The First Day of Good Weather, è realizzato in Giappone, nella zona a nord, e tra le varie cose che prova in qualche modo a far vedere, a raccontare, diciamo così per immagini, è il Giappone dopo tsunami. Quindi tutte le forze, diciamo, sia umane che esperienziali, che portano a ricostruire qualcosa dopo un lutto, dopo una tragedia che in quel caso è collettiva. Il secondo, che si intitola Eden, è stato realizzato invece al confine tra Armenia e Iran, e in qualche modo si vuole un tipo, un tentativo di racconto di un confine con tutte le sue brutture, con tutte le sue violenze. Emosphere Silent in ultimo, che invece è pensato, immaginato e realizzato in New Mexico, a partire dal luogo che si chiama Trinity Site, in cui è stato sperimentato per la prima volta un ordigno nucleare, due settimane prima che questo fosse testato sugli umani a Hiroshima e poi Anagasaki, quindi in qualche modo chiude un cerchio non solo tematico, ma anche geografico, nella misura in cui da lì si è sperimentato qualcosa che poi avrebbe ucciso in solo istante centinaia di migliaia di persone. I tre progetti condividono in qualche modo una riflessione su quanto un evento storico, un evento di una portata mondiale, possa avere delle ricadute sui destini, sulle singole traiettorie biografiche. Oltre a essere questa trilogia, quindi tre capitoli, anche un tentativo di indagare certe forme di ricostruzione della memoria, quindi come ognuno di noi possa essere portato a riscrivere la memoria. Finiti questi tre lavori, io e Anush condividiamo anche la realizzazione di film documentari, avevamo realizzato un documentario che si intitola Messie Kubotà su un personaggio abbastanza uno scienziato pazzo, per dirla in breve, che studia e che cerca l'immortalità per l'uomo. Come spesso succede, di qui a poco lo rifaremmo per fortuna, quando finiamo un lavoro facciamo una cosa che è abbastanza comune, soprattutto nei collettivi, nei duo come il nostro, cioè quella di incontrarci e lui viva a Parigi, io a Torino, e condividere delle piste, delle proposte, delle idee che nei mesi precedenti sono venute a Gall. Chiamiamo questa cosa un po' simpaticamente università d'estate, cioè ha delle regole ben precise, dobbiamo trovarci in un posto che nessuno di noi conosce, una cittadina più o meno all'interno dell'Europa raggiungibile facilmente, e ci dedichiamo, anche se in quel momento siamo entrambi presi da altri progetti o da un progetto condiviso, ci dedichiamo a sognare qualcosa di nuovo. Nel 2018, per l'appunto, 2017, alla fine della trilogia precedente, del film che vedeva la luce usciva nelle sale in quel momento, ci siamo trovati e tra le varie idee che sono rimaste a galla, fra quelle proposte da me e da lui, c'era questa cosa di, per la prima volta, dedicarci non a qualcosa che era già finito, come ho detto e ho raccontato prima, cioè l'aftermath, cioè le conseguenze di una guerra in un caso, un tsunami in un altro, un evento di portata storica nel terzo capitolo della trilogia, ma a provare a indagare qualcosa che stava scomparendo, che stava per succedere. Avevamo entrambi un ricordo, non so quanto preciso, del fratello di un amico tedesco che faceva il sociolinguista, che era stato in Sud America a registrare l'ultima native speaker, l'ultima persona che parlasse una lingua india del Sud America, qualche anno prima, ecco. Quindi entrambi abbiamo evocato questa specie di ricordo e ci è sembrato una cosa interessante come approccio, l'idea di andare a registrare, di andare a vedere cosa succede quando scompare una lingua. Abbiamo cercato, come fanno tutti, un po' su internet, ci sono delle storie straordinarie, tipo in Messico c'è una lingua che è parlata da due persone soltanto, che però hanno litigato, sono vicine di casa, quindi non si parlano più. C'è una lingua india sempre nella terra del fuoco che ormai è parlata da una sola persona che ha 95 anni, insomma, di storie avvincenti, interessanti, degne di essere raccontate, ce n'erano parecchie. E a un certo punto, un po' per elezione, nel senso che questo è il terzo progetto che io e lui realizziamo in Giappone, ci siamo imbattuti in questa lingua minoritaria che i giapponesi si ostinano a chiamare dialetto, che è una lingua nipponica ma che è incomprensibile a un giapponese e viceversa, tra l'altro, che è parlato su questo luogo che è una specie dei tanti, una fine del mondo. È uno scoglio, sono sette chilometri per tre, è alla fine proprio dell'impero giapponese. È più vicino a Taiwan che a Giappone. È più vicino a Taiwan che a Giappone. Ha avuto qualche salito un po' gli onori della cronaca perché essendo il posto più a ovest del paese, il sollevante, l'imperatore quando ha dato le dimissioni è andato in visita lì dove non c'è nulla, però simbolicamente è andato lì, ha scritto un haiku. Questa cosa ci permetteva, avendo come cavallo di Troia la questione della lingua, però già facendo un po' di ricerca abbiamo intravisto che c'era dell'altro in quel luogo. Non potevamo, raccontando le cose con il nostro mestiere, cioè per immagini, non potevamo vincolarci alla questione linguistica. Ma, e poi l'avremmo scoperto in fase di sopralluogo, la questione linguistica ovviamente ne nasconde molte altre di cui la lingua è un sintomo in qualche modo. Però, come hai letto tu nella Sinossi, Massimo, una lingua scompare perché ci sono delle forze di potere in ballo, tra cui banalmente il fatto che Yonaguni è un'isola che è stata venduta, strappata, soggiogata, occupata nei secoli un po' da tutti, cioè fondamentalmente dalle forze di quella parte del mondo lì che sono Cina e Giappone. E soprattutto in un'epoca moderna quello che sta succedendo è che è una delle tante periferie. Quella è semplicemente più estrema perché, giusto per dare un dato da qua, cioè dall'Europa, ci vogliono più o meno tra le 25 e le 30 ore per arrivarci. Quattro aerei e dal Giappone stesso, dalle isole principali, ce ne vogliono tre e mezza, quattro, se va bene, con due aerei. Di cui l'ultimo, uno di quelli con via elica, eccetera. Quindi è una delle tante periferie del mondo, un po' più estrema, i cui dati, poi oggettivi, che sono quelli che l'accomunano a tanti luoghi che possono essere, immagino, in Calabria o l'Appennino, Tosco-Emiliano, in cui i luoghi si stanno spopolando perché di base non c'è lavoro, non ci sono più le scuole dell'obbligo, nel senso che la modernità ha portato, ovviamente, a un tipo di istruzione, in quel caso del paese occupante, diciamo così, o comunque del paese del Giappone, per cui i ragazzini a 14 anni sono obbligati a lasciare l'isola. Non c'è un mercurale, quindi non si nasce, non si muore, come si dice, le donne incinte vanno nell'isola più vicina, che comunque ha una 40-45 minuti di aereo per partorire, quando non partoriscono in casa, i vecchi, se non muoiono di una morte improvvisa, il più delle volte raggiungono i familiari che sono o sull'isola più vicina o nel Giappone principale, non ci sono, appunto, non c'è lavoro, che è la cosa forse principale, e in tutto questo, dal 2015, guarda caso, si è installata una base militare, Yonaguni era stata risparmiata dall'occupazione americana, in sé che ci sono stati i bombardamenti, ma non è mai stata costruita una base americana, come nella parte principale di Okinawa, di cui politicamente Yonaguni fa parte, nonostante anche quella, la parte principale di Okinawa, sia distante un'ora e mezza di aereo, una base militare, quindi giapponese, non americana, perché Yonaguni è diventato il posto più vicino al nemico, alla Cina, quindi essendo il posto più esposto della catena militare giapponese, su quelle, su altre due isole, i giapponesi hanno installato tre basi che fungono da radar, da antimissili, antiaere, eccetera, e facendo sì che, come sempre, la promessa fosse in questo modo ci sarà più lavoro, adesso che è finita la base, si sta ampliando e molta gente, anche di quella che noi abbiamo intervistato, lascia l'isola perché ha paura di essere diventato un bersaglio, in qualche modo. Quindi, questa per raccontarla brevemente, è l'ampiezza di quel mondo lì, nonostante sia un microcosmo di sette metri, sette chilometri per tre. Quindi, tornando brevemente al perché ci siamo interessati agli onaguni, per l'appunto, noi abbiamo intuito che dietro quella questione linguistica ci fosse un mondo da raccontare. E poi, il caso ha giocato molto, nel senso che avevamo intercettato due o tre storie di lingue che scompaiono e che potevano essere interessanti per noi e per il nostro modo di lavorare, e un po', come dicevo prima, la simpatia, chiamiamola così, per il Giappone, un po' che la prima personale che ci ha risposto tra i vari referenti dell'UNESCO, di questo famoso Atlante delle lingue in via di scomparsa che abbiamo contattato, il primo a risponderci è stato Patrick Heinrich, che è un sociolinguista e nipponista di fama internazionale, che poi ha contribuito al libro curando tutta la parte accademica, il quale ci ha risposto dopo un'ora, credo fossimo in ottobre, comunque in autunno di quattro anni fa, ci ha dato appuntamento un mese dopo a Venezia, perché ora, dopo anni di Giappone, è tornato anche per causa dello tsunami, nel senso che aveva una figlia che stava per nascere e la sua compagna ha deciso di, ha chiesto, ha proposto di tornare in Europa, e abbiamo scritto a lui, che era a Venezia, ci ha proposto un incontro e dopo un'ora nel suo ufficio abbiamo deciso di andare insieme a fare un sopralluogo nel, mi pare, aprile successivo. Quindi, in parte, ha giocato anche l'incontro con un essere umano che ha non solo agevolato di molto la ricerca lì, non solo ha contribuito al libro, ma forse anche per un suo moto personale, il Dua va dedicato otto anni allo studio del Dunan, che è questa lingua in via di sparizione dell'isola di Gionaguni, anche per lui forse era un'occasione per tornare in un posto e a una ricerca che pensava fosse chiusa. Quindi, diciamo, si sono incastrate una serie di cose dal punto di vista, diciamo, del lavorativo, della ricerca, che hanno funzionato. Da un punto di vista economico, nel senso che è un progetto costosissimo, sai, il libro è costoso, i viaggi, come hai detto tu, solo di aerei. No, c'è trato, ci siete andati, credo, tre volte. Tre volte, tre volte. Quindi, diciamo, come vi siete gestiti? Perché siete stati molto bravi, però anche per far capire che ci sono delle dinamiche che vanno cercate, no? per poter sostenere dei progetti così complessi e costosi. Beh, come detto, appunto, anche solo il fatto di muoversi in due, poi noi siamo un'equipatura, però, in due, per quattro volte, per un mese, in un posto, comunque, nonostante sia la periferia, il Giappone è un paese mediamente più caro, e poi la vita a Yonaguni è piuttosto frugale, diciamo, però i costi sono notevoli. Lì, in quel caso, ci sono una serie di giochine, le tre carte che bisogna fare sempre, questa, diciamo, chiamiamola bravura nostra o capacità negli anni di assorbire le difficoltà della vita. Dall'altra abbiamo una fortuna che forse ci siamo costruiti, Anush e io, lui vive in Francia e il grosso del lavoro che facciamo eccetto quello editoriale, a cui poi possiamo arrivare dopo perché i costi del libro come hai detto sono stati eccessivi, sono stati notevoli, e la Francia ha qualche possibilità in più dal punto di vista della ricerca o in fase di ricerca la dà. Per venire nel concreto, giusto per non lasciare le cose nel mistero, noi abbiamo potuto fare il primo sopralluogo con una borsa che si chiama Bruyne d'Enrave, che è allargita dalla SCAM che è l'equivalente della CIA, cioè la società degli autori. Manca un dettaglio perché sia chiaro tutta questa cosa qua, noi di solito abbiamo fatto appunto tre progetti artistici, fotografici, installativi, che sono quelli che hanno dato vita ai tre libri e questo al quarto, e poi avevamo all'attivo un documentario corealizzato, mentre Anush ne ha ormai sette, otto suoi, diciamo, firmati solo da lui. ci siamo resi quasi conto, quasi subito, che tutta questa ampiezza di mondo che era Ionaguni, nonostante fosse piccolissimo, ci avrebbe forse dato la possibilità per la prima volta di, dello stesso progetto, dello stesso luogo, della stessa materia, di realizzare due cose contemporaneamente. In un caso un'installazione e poi un libro, quindi, che non sono uguali, ma diciamo contemplano la stessa sfera di questo progetto e dall'altro un documentario che racconta, se ci sarà tempo dopo ve lo racconterà, che è uscito in anteprima quest'estate in Francia, è stato selezionato un festival giapponese, adesso aspettiamo anche altri festival europei, che racconta in un modo molto diverso perché nel momento in cui abbiamo capito che c'era modo di fare due, tre cose assieme al libro diverse, abbiamo cercato di trovare un'identità ognuna delle tre cose, quindi il film non racconta quello che c'è nel libro e l'installazione per quanto invece abbia gli stessi contenuti del libro cerca di agire su un canale diverso rispetto a quello del libro. E tutto questo lo dico perché la borsa che abbiamo avuto per fare il primo sopralluogo è una borsa di ricerca, di sopralluogo proprio, che viene data nel mondo del documentario. Quindi noi abbiamo fatto un sopralluogo per entrambe queste due cose, sia per il libro diciamo così con le foto e le storie, sia le prime riprese di sopralluogo del film con una borsa di mi pare 5.000 o una cosa del genere euro dato dalla SIAE francese a cui siamo iscritti in cui prendiamo i diritti paghiamo la quota insomma tutte quelle cose poi in una fase successiva abbiamo tornato e abbiamo scritto sia anche se un documentario una specie di soggetto una sceneggiatura un po' avanzata del film e abbiamo cominciato a pensare cosa potesse essere giusto raccontare nell'installazione e nel libro perché per l'appunto come dicevo prima ci sono resi conto che l'aspetto linguistico era uno degli aspetti ma ovviamente dietro si celava un mondo che era quello poi più sostanzioso del perché una lingua scomparata in quella fase lì abbiamo per quanto riguarda il documentario trovato una casa di produzione e per quanto riguarda adesso le divido ma in realtà la cosa si è fatta un po' insieme per quanto riguarda invece la mostra e il libro abbiamo proposto banalmente il progetto al festival di fotografia europea al comitato scientifico mandando proprio al direttore che è Walter Guadagnini una sinossi del progetto l'ha proposta si vede che si vede so che gli è piaciuto l'ha proposta al comitato scientifico e hanno deciso di darci quella che purtroppo quest'anno non ho potuto dare ma che storicamente quel festival dava poi c'è la commissione di fotografia europea c'è un finanziamento un progetto che viene presentato in anteprima un'edizione solitamente ha a che fare con il tema o il paese ospitato di quell'edizione lì e viene poi esposto quindi viene dato un anno di lavoro perché il lavoro perché il progetto venga portato a termine viene esposto l'anno successivo anche quello adesso se non voglio fare i colti in tasca a me stesso ma ovviamente considerata l'ambizione del progetto è considerato il fatto che siamo in due e che il posto è lontano e stiamo un mese è servito a coprire il secondo viaggio una volta finito il secondo viaggio come dicevo abbiamo avanzato sul film documentario facendo le riprese e praticamente fatto metà del libro cioè raccolto una buona parte delle storie che poi sono finite nel libro e incominciata la sessione fotografica una volta capito che volevamo approcciare gli onaguni in quel modo poi parleremo magari dopo cioè realizzando una specie di mappatura dell'isola nella terza fase e la quarta in realtà sono state aiutate dal fatto che scrivendo e incominciando a realizzare un documentario arrivano i fondi la trafile lunga e non interessa a nessuno ma insomma si partecipa alle film commission francesi ai bandi di produzione e abbiamo avuto la fortuna e lì i soldi sono alti perché solitamente si è abituati a altri soldi anche perché devi pagare molta più gente diciamo anche se noi siamo in dura a riprendere ma hai bisogno di un interprete quando l'hai finito hai bisogno di un montatore eccetera quindi un budget ancora più ampio però quella cosa il fatto che abbiamo avuto il sostegno del CNC che è il centro di cinematografia nazionale francese e alcuni aiuti fondi regionali ci ha permesso di compiere la terza sessione di ripresa per il film e completare la parte fotografica che doveva esordire diciamo avrebbe dovuto essere esposta l'anno scorso quindi noi a aprile dell'anno scorso avevamo finito tutta la parte di lavoro per la mostra era montato abbiamo montato con un ingegnere del suono di Lione abbiamo chiuso tutta la cosa rimanevano da finire le riprese del film siamo partiti proprio l'ultimo giorno disponibile prima del lockdown siamo riusciti ad andare là a lavorare l'ultimo mese se ci sarà modo vi racconterò perché siamo andati comunque ostinatamente era un lockdown pure quello fondamentalmente alla fine più isolate di così io avevo tutte le invide di tutti i miei amici fidanzati eccetera perché l'unico posto in cui prende il wifi a Yonaguni è sulla spiaggia e stiamo parlando di un'isola nonostante sia burrascosa sempre un po' grigia cose così è subtropicale quindi io li chiamavo con tutti loro chiusi in casa perché il primo lockdown era severissimo e io in spiaggia senza mascherine tutte queste cose qua e quindi poi siamo tornati quindi il film è stato montato nell'estate scorsa una prima parte diciamo una prima sessione di montaggio una seconda quest'inverno e qua arriviamo alla questione del libro che poi è il motivo per cui questa sera stiamo chiacchierando il progetto è stato esposto poi finalmente quest'anno a fotografia europea quindi con un anno di ritardo il libro ci tenevamo che fosse presentato durante l'inaugurazione abbiamo avuto in quel caso il vantaggio di aver lavorato con Caposcari e quindi buona parte delle traduzioni sono state fatte interne a Caposcari dai dottorandi del professor Heinrich con l'eccezione della traduttrice principale che ha fatto un lavoro notevole e questi sono i soldi diciamo la produzione extra il libro in sé cioè tipograficamente carissimo è stato finanziato dal museo dove faremo la mostra adesso tra un mese che è un museo francese nuovo a Lione che si chiama Le Cap il quale noi abbiamo già collaborato con la curatrice con la direttrice ora che è una curatrice sarebbe interessata in una fase già di costruzione del progetto l'aveva già messo in programma sembra incredibile ma c'erano i soldi per la produzione più una fee quindi anche più che degna considerato l'abitudine che abbiamo non essere pagati massimo per niente e cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutti quei soldi lì che aspettavano a noi perché la mostra era già prodotta e quindi ce li saremmo potuti intascare è una mostra leggera perché non ha supporti ci sono solo i costi di affitto dei proiettori delle casse mostra che ha dei file e nient'altro quindi non c'era il trasporto abbiamo preso la nostra fee abbiamo preso tutto il pacchetto di dollaroni e l'abbiamo messo nel libro perfetto beh intanto anche se è una cosa un po' lunga la gente capisce anche che quel mattone di pagine ha un suo valore se non altro per tutto lo sforzo che c'è dietro entriamo un po' nel lavoro adesso allora il progetto rispetto ad altri a cui è lavorato come abbiamo detto già nelle premesse è decisamente antiestetico noi ne avevamo anche parlato a Reggio Emilia ti avevo detto che mi ricordava molto Anne Zawagard di Anders Edström che è un autore che credo che tutti e due amiamo e vorrei che spiegassi un attimino il perché di questa scelta perché per esempio il lavoro di Edström sembra essere quasi una sfida quanto si può rendere antiestetico un lavoro fotografico e al tempo stesso mantenere vivo l'interesse il mistero rispetto al lavoro e al progetto e ovviamente il suo non è un lavoro che si capisce subito non è facilmente fruibile probabilmente richiede anche una certa preparazione e cultura per poterla apprezzare quello che mi interessa sapere è cosa c'è dietro la vostra scelta e che tipo di sfida o obiettivo in qualche modo perché la mia interpretazione è che il linguaggio prima di tutto è molto cinematografico quindi in qualche modo è vero che state girando avete girato un documentario ma in qualche modo la fotografia sembra essere un po' la continuazione o la premessa mettila come ti pare del lavoro cinematografico e anche un po' il tentativo di fermare il tempo Tarkovsky direbbe scolpire il tempo perché in definitiva poi abbiamo a che fare con qualche cosa che sta morendo quindi in qualche modo il tempo deve avere una sua lentezza ma non solo queste immagini cinematografiche almeno a me danno questa sensazione che ci impediscono di chiudere gli occhi pur essendo i frame tutti molto uguali è come se tutti perdessimo qualche cosa facendo questa passeggiata perché fondamentalmente mi sembra di capire che sono delle passeggiate io la chiamerei un'esplorazione dell'abbandono si cammina e si percepisce questo silenzio infinito che poi è quello di cui parlano tanto i suoi abitanti quello di cui non possono fare a meno anche quando vanno a vivere nelle città insomma questo io è quello che ho percepito non so se ho percepito la cosa giusta però vorrei che ne parlassi un attimino te come diciamo che tipo di scelta avete fatto che tipo di sfida obiettivo vi siete posti nell'usare un linguaggio anche così estremo fondamentalmente hai detto cose giustissime la prima idea lavorando appunto tre volte delle quattro in cui siamo andati lì proprio a stretto contatto con un sociolinguista è venuta da banalmente da un suo spunto lui è uno dei lavori che aveva fatto a Gionaguni per capire quanto la lingua fosse ormai la lingua nativa fosse ormai in minoranza e verso la scomparsa era andato in tutta l'isola a fotografare tutti i cartelli scritti quindi ovviamente facendo una cosa con una macchinetta digitale stiamo parlando dei primi anni 2000 ma aveva diciamo fatto un lavoro di tipo esaustivo aveva dovuto fotografare tutto quindi quella è stata la prima intuizione ci siamo detti alla fine è un piccolo modello per dire lì di strosso è un modello minimo forse in questo luogo abbiamo la possibilità di fotografare tutto e di raccogliere delle storie da tutti gli abitanti quella che raccoglie le storie da tutti gli abitanti considerata anche l'età media che è notevole purtroppo non siamo riusciti proprio a portare a termine nonostante abbiamo racconto comunque un numero di storie ben più ampio di di quelle che sono finite nel libro invece l'idea di andare in tutti i luoghi dell'isola per quanto possa sembrare radicale anche se è un posto piccolo credo che ci siamo riusciti cioè tutto dove c'era un sentiero tutto dove c'era una una viuzza tutte le case sono una una mappate ecco il motivo quindi questa è stata la prima intuizione la ragione per cui fare una cosa del genere è come hai detto tu anche quella venuta da da un'informazione cioè nel momento in cui hanno costruito la base militare abbiamo incominciato sono giunte voci che uno dei disegni è quello di fare diventare quest'isola un'isola militare e di lì in poi ci siamo detto ok ma questo tra cent'anni tra una decina quindicina d'anni ok allora siamo davanti a una cosa che non solo sta scomparendo ma che con buona probabilità nessuno di noi potrà visitare cioè potrà frequentare tra 15-20 anni e ci è sembrato che a quel punto tutto quello che giustamente tu dici radicale fosse il minimo che dovevamo a quel luogo cioè una specie di Anush usa spesso un'espressione che è l'archeologia del futuro ho raccontato i progetti precedenti in cui siamo andati a qualcosa di già avvenuto che fosse lo tsunami la bomba prima bomba atomica eccetera qua avevamo la possibilità una specie di documentario di fotografia di docu science fiction cioè avevamo la possibilità di vedere un posto dove probabilmente nessuno di noi potrà più andare e direte voi che importa si può andare in mille altri posti è come quando scompare un animale cioè vabbè ce ne sono altri oppure la sensazione che quella cosa lì non si potrà più vedere ci ha spinto poi magari non succederà anzi me lo auguro però ci ha spinto a essere per l'appunto un po' estremi in una fase di ripresa fotografica innanzitutto che è stato appunto il desiderio di cercare di fotografare tutto tutte le case in cui potevamo entrare anche gli interni che ovviamente come le storie non sono il cento per cento delle case quelli in esterno sì ci sono tre villaggi a Yonaguni e abbiamo fotografato tutto proprio seguendo una specie di Google Street View con un uomo dietro anziché una macchina e poi nella fase di realizzazione del libro perché poi ci sono più libri che muoiono quando se ne fa uno grazie a un lavoro di editing altra cosa un dettaglio che magari interessa il fotografo o meno ma è stato il primo e ad oggi l'unico lavoro che io ho fatto in digitale intanto mentre tu parli io faccio vedere un po' del libro perché visto che stiamo parlando anche delle immagini non si deve fare in digitale ma che fosse analogico come al solito è stato anche quella è stata una scelta in parte dovuta all'economia sembra brutto a dire ma una delle prime ragioni è stato che se vogliamo fare questa mappatura farla in medio formato come solitamente lavoro io produrre migliaia di immagini diventa complicato poi oddio sono cose che poi si possono fare in qualche modo diciamo che ci siamo anche detti ok se questo è un documento il sottotitolo del libro diciamo è il titolo dell'isola e il sottotitolo dell'ionaguni 2020 cioè se questo con tutto il suo brutalismo tutto il suo noi diciamo spesso una fotografia di grado zero quasi non solo di documentazione ma proprio di appunto di mappatura di questo luogo e di adesso forse è giusto che appunto quel brutalismo sia anche quello di un digitale senza filtri diciamo così ma non parlando di filtri di Instagram cioè senza intermediazioni ovviamente poi costruire una sequenza e costruire un libro vuol dire appunto rinunciare a tantissime altre cose e quella sensazione di passeggiata cinematografica di cui parlavi tu Massimo è stata ovviamente lavorata molto a cominciare dal layout che ha preso almeno prima di arrivare a questa forma qua dieci forme diverse e per essere diciamo radicali ma neanche eccessivi era un libro che poteva essere di mille pagine ecco ci sono mille ragionamenti che come sai si fanno per il libro possiamo sviscerarne qualcuno però uno dei modi è stato quello di dare un'orizzontalità a questa camminata riducendo il formato delle fotografie facendo man mano scomparire sempre più immagini ci sono sempre nella sequenza di 280 pagine ce ne sono sempre meno a un certo punto quella cosa lì vengono meno proprio le immagini quindi vengono meno i ricordi per usare una delle dei pensieri che sono stati dietro la costruzione del libro per il resto quello che dici tu cioè che la chiami passeggiata oltre vabbè come struttura narrativa ha quattro momenti diciamo di come se fossero quattro stagioni che poi è abbastanza vero ovviamente in un'isola subtropicale non sono le stagioni che ci sono da noi ma diciamo si attraversa del tempo questo è ovvio perché l'abbiamo fatto in tempi diversi e perché in qualche modo mi sembrava mantenere vivo questo racconto che è lungo e quindi ci vogliono anche degli escramotage diciamo in tutta la sua serialità degli escramotage per tenere un po' viva l'attenzione in fondo rispetto si basa comunque su tutto il libro compresa la sequenza fotografica su un atto di fiducia che si fa nei confronti degli autori e secondo me era onesto dal punto di vista dell'immagine dichiarare ok se ci stai con me facciamo questo giro insieme che potrebbe essere l'ultimo giro che facciamo su questo luogo che poi diventerà un'isola fantasma un'isola militare e allora ti prendo e ti faccio vedere tutto quello che c'è da vedere su quest'isola senti Vittorio prima abbiamo letto nella sinossi quando una lingua muore porta con sé la conoscenza dell'ambiente che ha nominato per secoli quindi piante animali malattie religione è un'affermazione importante secondo me perché in qualche modo non usa mezze parole cioè va dritto al dunque noi viviamo in un'epoca in cui si tende a cancellare la memoria spesso a sostituirla con cose abbastanza superficiali inutili e quindi questa frase in qualche modo sottolinea in maniera importante che la perdita di una lingua seppure parlata da pochi in un posto remoto perché insomma abbiamo descritto il luogo ha un peso enorme perché ha a che fare con generazioni e secoli di storia e tradizione e anche con direi l'indissolubile legame delle persone con i loro ma anche con gli altri ambienti perché poi insomma è abbastanza evidente che non è che uno vive in un ambiente punto in realtà il nostro ambiente è correlato ad altri ambienti è come se nella storia della civiltà venissero cancellati dei capitoli cioè tu dicevi scompare un animale una razza non se ne accorge nessuno scompare una lingua non se ne accorge nessuno ma in realtà è come se tu cancellassi dei mattoncini dalla storia della civiltà o dalla storia della natura e questo noi lo vediamo succedere nei film di fantascienza dove magari si raccontano delle società distopiche delle realtà distopiche ma averci a che fare dal vivo è un'altra cosa e quindi la mia domanda è che sensazione avete ricavato nello sperimentare dal vivo questa inevitabile progressiva perdita o anche questa trasformazione di cui tu parlavi cioè il fatto che questo posto che è sempre stata una cosa probabilmente diventerà un'altra cosa e quindi diventerà addirittura inaccessibile questo diciamo è una domanda che ti faccio mi piacerebbe farla anche ad anuncio ma immagino che poi tu sei in grado di trasmettere come dire il pensiero di entrambi cioè proprio una sensazione tua personale non professionale cioè avere a che fare con qualche cosa che si sta dissolvendo un pezzo di storia della civiltà che sta scomparendo verissimo spero di non complicare le cose ma il progetto installativo che tu hai visto a Reggio Emilia aveva il corpo principale ai chiostri di San Pietro e poi c'era un'installazione che purtroppo non era ben segnalata per lo spazio esterno visto che era un'edizione comunque covid un evento sonoro perché per chi non fosse da Reggio Emilia la nostra è una specie di installazione sonora con delle immagini che sono quelle del libro per quell'opera che era diffusa a Reggio Emilia all'esterno abbiamo registrato tutti i lemmi del dizionario che esiste dal Dunan al giapponese sono 30.000 lemmi ha una storia straordinaria anche il dizionario perché è stato scritto dalla prima donna che ha studiato dell'isola quindi un dizionario non scientificamente corretto ma che raccoglie tutte le parole che lei sapeva che ricordava eccetera l'abbiamo registrato dalla voce di uno degli ultimi madrelingua tanto con mille difficoltà perché era molto anziano e ovviamente aveva un pudore rispetto al fatto che lui fosse la persona scelta da noi e dal professor Heinrich per mandare nello spazio questa pillola per il futuro dell'umanità ecco questa è la questione elaborativa la questione umana tra le mille altre cose che credo che raramente nonostante sia felicissima di tutti i miei progetti e i progetti con Anush raramente ho provato quel tipo di emozione lì eravamo in uno stanzino l'abbiamo fatto per un 15-20 riprese perché dovevamo dividere a mezz'ora mezz'ora un'ora se era stanco se gli facevano mai gli occhi eccetera il fatto di sentire per lui che molte di quelle parole le poche persone che parlano ancora il Dunan magari le usano parole correnti il nome di una pianta eccetera ma tantissime altre lui stesso doveva fermarsi per capire come si pronunciasse ecco il fatto di delle mie orecchie quindi se mi chiedi una questione personale sentire con le mie orecchie per l'ultima volta un suono che non verrà mai più riprodotto è come sentire l'ultimo rugito di l'ultimo verso che fa un animale prima che l'ultimo esemplare di quella razza scompaia cioè emotivamente è stata una cosa densissima tra l'altro giusto per raccontare ancora di questo dizionario visto che quella parte del lavoro si muove un po' appunto a metà tra un'operazione chiamiamola artistica ma in realtà praticamente scientifica come dicevo di quel tedesco di cui ci ricordavamo che faceva una cosa simile in Sud America in 10 ore verrà acquisita dall'Università Ca' Foscari e l'intensità del lavoro del professor Heinrich su questo progetto che ci vede partecipi farà sì che il prossimo anno uscirà un dizionario per la prima volta un dizionario di questa lingua Aldunan a una lingua indoeuropea cioè l'inglese quindi da qualche parte rimarrà questa cosa ovviamente ce lo chiedono spesso hai fiducia nel fatto che questa cosa possa servire no nel senso che le lingue sopravvivono o muoiono per altre cose e per altre forze in campo il nostro è una specie di appunto di tentativo di salvare qualcosa che sta che è già al di là dell'orlo a questo proposito Vittorio visto che stai citando diciamo un tentativo di salvataggio comunque insomma di contributo si parla di 250 lingue scompassi negli ultimi 50 anni e 3000 in pericolo ma che cosa si sta facendo concretamente? Cosa mi massimo ma ci dovrebbe un po' non so Mi sei qui adesso? Mi senti? Adesso sì Adesso sì Dicevo che cosa si sta facendo concretamente per risolvere il problema della scomparsa delle lingue cioè viene fatto solo un lavoro di indagine o si sta tentando anche di preservare e conservare almeno diciamo nella memoria come diciamo come l'esempio che facevi tu del dizionario e bla 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 di salvare qualche cosa di quello che sta scomparendo cioè l'UNESCO sta facendo una sta documentando questa cosa però un conto è documentare un conto è intervenire in termini pratici per cercare di salvaguardare un patrimonio un tesoro no? Certo ci sono ovviamente più istituti di ricerca oltre a quello dell'ONU che si occupa di lingue di archivio di lingue che stanno scomparendo ovviamente sono tutte cose che hanno una loro utilità credo che una lingua non non questo è un mio parere e mi permette di dirlo qua perché non sono circondato da persone che fanno quello di mestiere però quello che in qualche modo di cui ho fatto esperienza io nel caso di una lingua che era già passata al di là quindi che non ha più possibilità in qualche modo di salvarsi dipende da molti fattori che sono extralinguistici cioè una lingua si salva come è successo con la lingua basca per dire che ha ben altro tipo di ben altro ben più ampio bacino di parlanti però era in serie difficoltà qualche decennio fa se è attaccato un'economia attaccato a delle attività cioè se c'è una trasmissione di la lingua che serve per veicolare appunto la questione economica la questione politica allora quella lingua ha un senso e ovviamente il fatto del recupero in molti casi il recupero anche politico di una lingua come è stato nel caso Vasco o senza citare l'ebraico che ha tutta un'altra storia ma che è stata in qualche modo ancorata anche a una questione politica di sicuro gli intenti delle persone che tengono via una lingua contano ma è indispensabile che serva a qualcosa che serva per far vivere le persone in qualche modo ci sono una cosa no scusa aggiungo una cosa che incrocia la domanda di prima un'altra cosa emotivamente straziante è fatto che a Yonagumi c'è una religione animista che esiste solo lì in tutto il resto del Giappone una delle due delle manifestazioni più interessanti di questa cultura sono una necropoli che c'è ai bordi della città che è straordinaria perché è l'unica parte del Giappone in cui i morti non vengono bruciati ma seppelliti con un rito che ormai non si fa più praticamente lunghissimo c'è una sacerdotessa apta a pulire le ossa dopo 30 anni che il defunto viene sepolto eccetera eccetera e c'era una tradizione matriarcale di sacerdotesse ognuna delle quali corrispondeva a un utachi cioè un luogo sacro dove ci sono gli spiriti e un dato dell'attualità è che l'ultima sacerdotessa fino agli anni 80 erano 13 non vive più sull'isola deve prendere l'aereo per venire a professare i riti e i riti si fanno ancora in dunan perché gli spiriti parlano la lingua degli antichi perché sono morti e quindi il dunan è sintomatico che ormai praticamente se non in discussioni familiari tra anzianissimi viene usato per parlare i morti e non per parlare i vivi ecco è abbastanza sintomatico ci sono dei bei testi nel libro prima di farti un'altra domanda vorrei vorrei leggerne uno qui dice i poemi tradizionali di Yonaguni si chiamano sunkani sunku nella nostra lingua vuol dire tirare e a me piace moltissimo questa espressione che lui usa dice tiriamo trasciniamo i ricordi dai quali è difficile separarsi per i quali il cuore si volta indietro ancora e ancora e dice ne ho qui con me alcuni che gli studenti delle medie hanno scritto l'anno scorso per esempio il sole luminoso e l'odore del mare anche se mi allontano da Yonaguni rimangono nel mio cuore ho l'erba di Yonaguni colpita dal sale e dal sole e vive in questo ambiente ostile questa erba mi assomiglia ovviamente sembrano tanti haiku bisogna entrare anche un po' nella filosofia giapponese per capirli però sono pieni di sentimento le stelle cadenti sono bellissime penso ai miei genitori e provo tante emozioni quanto sono queste stelle cadenti questa persona dice quando i ragazzi partono ovviamente per lasciare l'isola e andare a studiare o lavorare altrove scrivono questi suncani con il cuore ma in fondo non soffrono perché sono curiosi sono eccitati l'idea di conoscere il mondo quando arrivano nelle città giapponesi però fanno fatica ad adattarsi a un certo punto immancabilmente la nostalgia arriva è terribile quando succede lo so bene anch'io perché sono partito anch'io da Yonaguni mi ricordo benissimo la prima volta che ho pianto lontano da Yonaguni era il primo anno di liceo durante l'ora di scienza il professore iniziò a spiegare biologia marina e raccontava la vita dei delfini e delle balene e di punto in bianco mi misi a piangere i miei compagni di classe mi guardavano e non capivano io pensavo a mio padre pescatore di pesce e spada fiero aveva portato a casa un pesce da 150 kg quando tornai sull'isola un amico di Nara mi scrisse una lettera chiedendomi cosa fossi andato a fare ai confini del Giappone è vero Yonaguni è la frontiera del Giappone laggiù dietro quelle nuvole c'è Taiwan ma le frontiere sono solo un'invenzione questo pezzo è bellissimo quest'isola è situata al 24 gradi 27 come si indica 27 col trattino non mi viene comunque di latitudine nord è 122 gradi 2094 primi ah primi di non ceduti in est questo è un dettaglio geografico che mi interessa più delle frontiere Yonaguni non è un posto sperduto per me è il centro del mondo ecco cosa risposi al mio amico di Nara allora la domanda dopo questa premessa che spero che non abbiano mi ha aiuto le persone che trovo che ci sono delle parole bellissime a me viene da pensare che viviamo in un paese in cui il senso di appartenenza è abbastanza scarso nel senso viene sempre fuori quando vinciamo i mondiali gli europei o le medaglie all'Olimpiadi no? mentre invece è molto più forte a livello regionale o di città no? cioè per esempio i calabresi hanno invaso mezzo mondo ma toccagli la Calabria succede il finimondo allora la domanda è per te ma anche per le persone che stanno assistendo quanto sono importanti le radici per te perché tra l'altro noi due siamo della stessa origine quindi io personalmente non mi sento molto legato alla ragione da cui vengo però in realtà magari mi sento più legato al mio paese e poi le frontiere al di là delle chiare evidenti logistiche burocratiche evidenze burocratiche logistiche sono davvero solo un'invenzione ma poi risponde anche con due parole non c'è bisogno anche le persone che sono presenti mi piacerebbe che dicessero a loro visto che comunque le radici per le persone per i calabresi sono importanti molto importanti ma guarda io sai che ultimamente ero in Sardegna e c'è uno scrittore sardo che adoro che si chiama Sergio Azzeni che è stato fondamentale per questo libro nella costruzione diciamo narrativa e filosofica di questo progetto e lui difendeva il fatto di essere sardo ed europeo io come te questa cosa dell'appartenenza regionale non ce l'ho e so anche quanto può essere scivoloso un discorso che sul sul bisogno di appartenenza identitaria di posti piccoli c'è chi ovviamente li usa a sproposito questi discorsi che non nega che in questo caso e in altri mi affascinino molto nel senso credo in qualche modo per rispondere in un'altra maniera che andare a cercare un'identità che sta finendo dica in qualche modo qualcosa di me che quella sensazione lì non ce l'ho quella appartenenza non ce l'ho e forse vedendoci del bello è una specie di tentativo di io io stavo benissimo ero felicissimo e probabilmente avevo una sensazione che era legata al fatto di stare in un posto dove incominciavo a conoscere tutto geograficamente tutte le persone che probabilmente non ho per il posto da cui provengo quindi l'idea di essere in qualche modo simbolicamente adottato da una comunità a quella distanza mi riappacificato sul fatto che invece per il posto da cui provengo quel sentimento lì non ce l'ho no no scusa pensavo che avevi interrotto avevi finito e volevo vedere anche se c'era qualcuno che voleva dire qualcosa però tu continua rispondo sulle frontiere ma velocemente io questo non lo so se siano sai il lavoro che ho citato prima che è il nostro secondo mio di annus che si chiama Eden ha la questione della frontiera al centro in quel caso il libro non racconta delle storie non ci sono nella mostra sì e molte di queste storie che venivano raccontate avevano a che fare per l'appunto con la frontiera perché quella frontiera lì che raccontavamo era persino più spietata di quelli di Onaguni perché era quella tra Armeni e Iran quindi tra due mondi politicamente diversi un ex blocco sovietico ancora difeso dall'esercito russo e dall'altra l'Iran che solo nel novecento ha avuto delle trasformazioni notevole dal punto di vista politico diversissime dal punto di vista religioso insomma una vera frontiera tra l'altro ancora più riassumibile rispetto a quegli Onaguni in cui la frontiera naturale diciamo è il mare che separa o il mare che unisce a seconda dei punti di vista invece quella era una frontiera degli uomini nel senso che un fiume va bene che si chiama Aras però 30 chilometri di filo spinato torrette un ponte solo per attraverso quindi quella è decisa dagli uomini ebbene tra le varie storie che raccontavamo ce n'erano c'era quella di una donna armena che si era innamorata di un uomo iraniano guardandola a 500 metri di distanza ma che ovviamente non ha mai potuto incontrare si era invadita diciamo innamorata sognava di quell'al di là c'era la storia di tre ragazzini che salgono sulla montagna da cui si vede l'Iran e sognano di un giorno in cui se ne andranno non in Iran ma da quel posto di frontiera in cui vivono e a un certo punto c'è la storia di un prete ortodosso al quale chiediamo ci saranno le frontiere nel paradiso e lui ci risponde da buon prete integralista un po' sì perché nel paradiso ci sono gli uomini e quindi gli uomini hanno bisogno di frontiere ora io non sono d'accordo con lui anche in questo caso su questo tema io mi auguro di no ma diciamo che se non sono costruite gli uomini in buona parte aiutano le divisioni tra esseri umani ecco ci sono anche mentali le frontiere alla fine viviamo in un'epoca in cui si tende sempre a separare quello che è diverso quindi inevitabilmente c'è una frontiera e vedo che i calabresi non parlano e quindi io vado avanti ma io ho una cosa vorrei dirla fantastico grazie certo non sono Daniela Morica come c'è scritto là che è mia moglie ma insomma è la stessa cosa non è una domanda è giusto una riflessione a proposito di questi concetti dell'appartenenza quella dei calabresi in particolare in realtà in realtà non parlo per me ovviamente non è un non c'è tanto questo concetto di appartenenza però da un po' di tempo c'è c'è una curiosità più importante per il posto dove sto la calabria storicamente è un posto da cui si parte si è sempre partito per una serie di motivi che è inutile ricordare qui da un po' di tempo da un po' di tempo c'è chi decide nonostante le spinte centrifughe decide di restare allora a proposito di questo c'è chi ha sottolineato che il il concetto di partire che comunque comporta un'attività cioè quella di fare una cosa per andare fuori in contrasto con quella di chi rimane che dovrebbe essere un gesto passivo invece nel momento in cui c'è la decisione di restare in un posto diventa anche questo una decisione così come quella di partire allora ha coniato un termine che è proprio in contrasto con la partenza è quello della restanza non è un qualche cosa di passivo che ti succede perché stai lì perché sei nato lì ma decidi di restare allora che può succedere può succedere che nella restanza viene esercitata quella stessa curiosità quello stesso interesse che si può avere per un posto per il quale uno parte che possa essere il Giappone o Torino è la stessa cosa e per quanto mi riguarda questo è successo cioè è nata una curiosità nuova per questo posto dove ho deciso di restare oltre ad esserci nato e ho scoperto cose bellissime ho scoperto cose bellissime che stanno scomparendo che sono già scomparsi come succede lì in quell'isolotto lontano mi capita di sentire delle parole che forse nessuno ha mai sentito che forse non sentiremo più e quindi non ha una conclusione questo mio pensiero però può significare che può essere vissuto anche il fatto di restare senza sentimenti di appartenenza senza riconoscimenti di confine che non conosco non vogliono conoscere però con una curiosità nuova per un posto dove sono nato ma dove ho deciso di vivere grazie bellissimo il termine restanza me lo segno perché è veramente notevole Vittorio sempre in un testo del libro si legge quest'altra cosa molto bella dice tappatevi l'orecchie quando vi intimano devono usare quella lingua quella lingua è il vostro tesoro e come tutti i tesori è fragile se non la parlate un giorno scomparirà e morirà allora guardando il vostro lavoro mi viene da pensare a quanti fragili tesori nelle nostre vite personali anche nei nostri ambienti in qualche modo perdiamo perché siamo incapaci di prendersene cura per egoismo per superficialità o qualunque altro motivo ognuno di noi purtroppo ha a che fare con questa realtà quali tesori vi ha fatto scoprire o rivalutare questo lavoro magari anche una cosa che riguarda la tua vita personale come dicevi tu in qualche modo non hai un senso di appartenenza ma vederlo ti ha fatto pensare che si potrebbe averlo adesso faccio un esempio banale insomma è un tesoro vuoi quello mi vuoi rispondere domani? sei cattivo è una domanda che apparentemente sei invece no è bella come domanda ma soprattutto per me che solitamente come sai tendo a buttare sull'autobiografia le ragioni per cui facciamo questo lavoro anche io la domanda alle volte sì non è per sviare la domanda ma quella cosa che ho detto prima in risposta a una tua precedente domanda conta sicuramente beh in qualche modo in questo caso non è un modo di buttare sul lavorativo ma ha a che fare con la persona il fatto di fare un lavoro di gruppo per noi che siamo tendenzialmente soli come fotografi già ho la fortuna di condividere quasi tutte le avventure che faccio con Anush ma in questo caso abbiamo lavorato veramente con una quindicina di persone quindi quell'energia lì sapere che ti stai mettendo per una periferia del mondo ma che ci sono delle persone con cui hai un'intenzione comune non è da poco ecco quello è un tesoro quella è una cosa la condivisione è una cosa che poi a noi italiani proprio manca ed è una ricchezza incredibile io lo sto scoprendo anche con autori con cui ho a che fare che sono stranieri ma per loro la condivisione è una cosa normale per noi è invece quasi un incubo perché siamo tutti gelosi permalosi e quant'altro devo dire piccola piccola nota in più giusto anche per fare una serie di ringraziamenti ad esempio io che ho lasciato il mondo e l'università da un po' scoprire un numero che è più o meno di 15-20 persone di giovani o studenti o dottorandi con quelle capacità quell'interesse con la voglia di con la passione direi con la passione e con la serietà ci sono persone di 25 anni che hanno delle conoscenze delle capacità che io tutta la vita non ci arriverò quindi diciamo che è un moto di fiducia nei confronti non dell'accademia in sé ma di molte persone che ne fanno parte senti c'è un un'altra cosa che secondo me è importante alla luce anche di quello che sta succedendo nel mondo uno degli aspetti che viene fuori dai racconti è l'enorme rispetto agli abitanti per l'ambiente anche perché l'ambiente in qualche modo è fonte di sostentamento ma di sostentamento non di arricchimento e questo è tipico della saggezza popolare presente quando come dicevo adesso l'ambiente serve per sopravvivere e non per fare profitto sfrenato però in realtà noi viviamo in un mondo in cui l'ambiente rischia di collassare a causa dell'abilità dell'uomo questo è un dato oggettivo ormai ci dobbiamo purtroppo rassegnare a questa cosa rassegnare al fatto che è presente e ovviamente reagire perché non ci si può rassegnare di fronte a questo disastro che sensazioni avete avuto nel poter vivere in una dimensione così lontana sana e oramai diversa perché poi la realtà è purtroppo quella che abbiamo appena raccontato io cito anche un brevissimo testo che sempre viene fuori dal vostro libro dice è un pescatore dice lavoro e prego l'ho fatto per tutta la vita io faccio un lavoro di mare per me è importante pregare la mattina la sera prego la dea compira credo che si lega così levo le mani al cielo così esco dal porto alla spiaggia Nama lì c'è la dea compira prego di prendere un grande pesce spada se non prego il pesce spada scappa il pesce spada è una divinità c'è quindi questa saggezza popolare anche questo rispetto rispetto a la spiritualità della natura che è tipica di molte popolazioni tribali ma insomma anche di varie etnie e che purtroppo è andata persa nello stramondo proprio perché probabilmente abbiamo a che fare troppo con l'idea di avidità rispetto invece al fatto di convivere e rispettare quello che ci sta intorno voi come l'avete vissuta questa cosa perché è veramente questo è un tesoro secondo me lo è per quanto giusto per non rendere tutto già molto affascinante quel mondo lì senza esagerarlo in realtà poi fa parte della modernità anche il fatto che ad esempio i pescatori adesso sono con delle barche normali è uno dei punti più pericolosi del Pacifico perché c'è una corrente che si chiama che è spietata bisogna fare attenzione a fare il bagno per dire perché a tre metri ti ritrovano tipo nelle Filippine però bisogna nuotare proprio di fianco alla spiaggia e basta oltre ai pesci che ci sono ma questo è un altro discorso detto questo i pescatori ad esempio adesso fanno parte di un circuito economico che prevede che al mattino il pesce più pregiato parte sul primo aereo e a mezzogiorno e a Tokyo però quello che abbiamo ancora intervisto o perlomeno che ci è stato ancora raccontato tra cui quest'uomo il pescatore era effettivamente una relazione di rispetto come spesso succede in questi casi tra ad esempio il cacciatore e il cacciato tra il pescatore e il pescato per l'appunto il pesce spada è una divinità ed è un rapporto ci sono ancora delle foto straordinarie degli anni 70 una a uno cioè i pescatori uscivano da soli con una barca e una lancia tutto questo per dire che quello che si intuisce di questo mondo che purtroppo noi abbiamo visto veramente alla fine è un equilibrio tra le due componenti non c'è la prevaricazione di una componente sull'altro o meglio se c'è è la natura che è ben più forte quindi lo sai che va rispettata e così via a questo si aggiunge come in molte comunità diciamo arcaiche l'idea che la divinità stessa sia nella natura quindi ad esempio questi sono dettagli da backstage però una cosa a cui abbiamo dovuto fare molto attenzione anche quando fotografavamo o riprendevamo dei paesaggi a che dentro l'inquadratura non ci fosse uno dei luoghi sacri che sono gli utachi che per noi sono degli alberi magari tu non lo sai uno di quegli alberi lì è un luogo sacro quindi non dovevamo dovevamo sempre chiedere e tra l'altro sintomo del fatto che ormai quella cultura antica si sta perdendo alle volte nessuno si va a dire c'era neanche la sacerdotessa e altra cosa quasi divertente però insomma a un certo punto casualmente alla fine della terza sessione di ripresa non avevamo più l'interprete eravamo due giorni da soli però siamo andati a un tempio e c'era la sacerdotessa quindi abbiamo provato tramite uno che sapeva un po' d'inglese a spiegare se potevamo riprendere da dietro ci sono delle regole non puoi riprendere in faccia non si può riprendere il suono da dentro perché non si deve sentire cosa si dicono gli spiriti eccetera e abbiamo dovuto spiegare agli spiriti che cosa stavamo facendo tra l'altro in una cosa che a quel punto è diventata un po' una parodia lo dico con super rispetto nel senso che lo abbiamo dovuto fare in italiano perché non avevamo il traduttore e gli spiriti in teoria parlano in dun insomma un gran casino però invece portando molto rispetto la questione era dovete dire a cuore aperto quello che siete venuti a fare qua e il fatto che questa cosa che voi state facendo non abbia fini commerciali nel senso non siete qua per voi ma siete qua in qualche modo per tutti quanti neanche per noi eccetera ho il vantaggio il fatto che facendo libri non si guadagna niente e quindi diciamo che i fini commerciali sono dimenticati da un feo anzi uno è lemosina pure quindi non so se ci sono domande tra i partecipanti perché io c'ho un'ultima ma insomma abbiamo fatto vorrei vorrei se fosse possibile dire io qualcosa intanto un apprezzamento per questo lavoro straordinario e questo averci fatto conoscere una situazione che rappresentata così diventa ancora più bella di quella di quello che è bello uso la parola bello per dire per descrivere qualcosa che sta scomparendo e l'apprezziamo perché evidentemente non siamo abituati a viverle a conoscere determinate situazioni nel momento in cui ci vengono rappresentate ci si appassiona capiamo quanto sono importanti per loro e per noi che le viviamo e questo mi ricollego un po' al discorso che ha fatto Venturino prima la restanza o partire ecco e tu parti perché a un certo punto ti fanno credere che partire che cambiare zona o che vivere altre situazioni che qualcuno ti fa apparire ti fa capire ti fa pensare ti fa credere che sono situazioni migliori poi ti accorgi ed ecco allora perché torni indietro quando puoi che doveri forse forse esistono delle cose più importanti dei valori migliori dei valori più seri e allora ti affezioni ti appassioni incominci a capirli e vuoi capirli ancora di più ma questo come tu dicevi che l'assist te l'avevo offerto prima ma tu non hai colto Massimo quando dicevi quando sono stato lì a Yonguni mi sono accorto che mi sentivo mi sentivo che stavo bene perché perché probabilmente se non si conoscono certe cose non le si possono apprezzare quando le conosci e quando hai la possibilità di viverle non vedi l'ora di conoscerle di viverle e di starci ancora di più ecco io dico che le lingue si perdono che molte cose si perdono proprio appunto perché veniamo deviati da quello che oggi è questa modernità e ci si fa credere che i valori i valori erano altri ma in effetti i valori erano quelli ma lo dicevano studiosi ma un secolo due secoli fa io sto per leggere sto leggendo un libro di Giono quando dice la civiltà contadina che stava che sta scomparendo e lo diceva in un momento in cui stavano abbandonando tutte le campagne ecco l'augurio è che si torni in campagna l'augurio è che si torni ad apprezzare il pensiero meridiano l'andare lento la possibilità la possibilità di di apprezzare le piccole cose che poi sono veramente le grandi cose quindi io ti ringrazio per come ce l'hai spiegato ho cercato di dare una mia visione di quello che significa perché l'ho vissuto sulla mia pelle io non sono mai andato via da questa mia terra nonostante ho sempre avuto centinaia forse anche migliaia di occasioni perché perché ogni qualvolta mi sono confrontato con quel mondo mi accorgevo che non mi apparteneva ecco chi si trova come te a vivere quelle determinate situazioni per lavoro per svago poi ti accorgi che c'è qualcosa di straordinario racconto solo un esempio qualche anno fa abbiamo presentato a Milano un lavoro che parlava di valori e io c'ho ancora persone oggi che mi telefonano e dicono ci hai fatto ricordare che esistevano questi valori l'amicizia il rispetto bene forse bisognerebbe parlarne di più quindi questo tuo tentativo di questa di questo salvataggio di una lingua o di questo salvataggio di un paese non è perduto non è vano secondo me sono questi piccoli tasselli che rallentano un po' questo questo decorso assurdo dell'umanità sta vivendo grazie ancora Vittorio grazie anche ad Anush che stasera non è stato con noi grazie perché avete fatto veramente io ho comprato il libro pure tra l'altro lo vendo pure ma ho detto a Milo mandamene anche una coppia per me non vedo l'ora è arrivato stamattina domani se tutto va bene me ne impossesserò e mi piacerà guardare guardare queste fotografie e leggere quelle quelle quei testi che in massimo ha fatto scorrere un po' troppo velocemente però alcune parole mi hanno incuriosito molto grazie ancora vai Massimo no io forse visto che adesso hai fatto questo remarco sul fatto dei testi che in realtà non è più diverso ma ovviamente la gente non si può mettere a leggere subito concluderei leggendo un testo se siete d'accordo che è molto bello e quindi io ti Vittorio ti ringrazio comunque in anticipo non so se ci salutiamo di nuovo dice secoli fa un uomo proveniente da un luogo lontano del sud sul cavalo oceano alla ricerca di terre sconosciute dove poter vivere con la propria famiglia un giorno gli trovò un lembo di terra che emergeva dall'acqua quella terra era baciata da un sole splendente il mare blu che lo abbracciava si estendeva gentile e perdita d'occhio l'uomo capì che su quell'isola si poteva vivere decise di trasferirsi con i suoi fratelli e i cugini e con le loro mogli trascorsero i giorni i bambini crebbero e in poco tempo la popolazione sull'isola aumentò rendendo quel luogo troppo piccolo per poterci vivere adeguatamente l'uomo supplicò allora il cielo divinità del cielo vi imploro ingrandite questo pezzetto di terra fu così che l'isola aumentò ad un tratto le sue dimensioni l'uomo continuò divinità del cielo vi supplico date a questa terra alberi e frutti subito dopo germogliarono delle piante in questo modo quel piccolo lembo di terra divenne il luogo che noi chiamiamo Ionabuni quest'isola tanto pacifica un giorno però venne circondata da dunghi nubi nere e minacciose iniziò a piovere in quel poco tempo la pioggia divenne forte così forte da causare dolore alle orecchie per il rumore corsi d'acqua rimacciosa scorrevano sull'isola facendo diventare il mare del colore della terra il cibo poco a poco finì la legna da ardere si bagnò rendendo impossibile accendere il fuoco in poco tempo i bambini cominciarono a disperarsi per la fame e per il freddo agli abitanti di quell'isola non rimase altra scelta che ripararsi in una grotta stando vicini l'uno agli altri per combattere il gelo piove ininterrottamente per quattro mesi un giorno finalmente la pioggia cessò lasciando scolpiti nel paesaggio montagne e fiumi un raggio di sole fatto si varco tra le nubi illuminò una stradina interna dell'isola noi chiamiamo ancora oggi quel posto Tidanduguru che nella nostra lingua vuol dire il luogo del sole io finirei così perché tra l'altro insomma siamo un paese del sole quindi questa è una della leggenda il mito fondante di Gionaguni che si è appunto emersa e che poi l'orografia sia dovuta a questa pioggia infinita e il luogo del sole esiste ancora uno dei vari luoghi sacri di cui però come dicevo prima in me sono andati al momento della celebrazione ero a minotto persone quindi ecco con ottimismo e con la felicità di aver condiviso questo incontro con voi e con la certezza che la restanza sia una delle ragioni di vita come per me quella di cercare una comunità lontana dal 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 posto in cui sono cresciuto consapevoli che in alcuni casi il problema non è la scelta personale da andare via o restare ma quando alle periferie viene obbligato di andarsene cioè le persone che fanno parte di quei luoghi sono in qualche modo obbligate ad andarsene quindi ahimè alcune scomparse sono inesorabili ed è triste che sia così ecco sono d'accordo con te bene io saluterei tutti spero che vi sia piaciuto questo ritorno alle nostre talk vittorio grazie è stato bello 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 almeno per me spero anche per te salutami Anush che ho visto pochissime volte però insomma con cui mi piacerebbe anche parlare prima o poi grazie un libro direi ci vediamo per il prossimo libro spero il prossimo anno anticipazione dell'ultimo momento va bene d'accordo assolutamente sì non io e te ma con sì no certo certo io e te spero ok grazie a tutti è entrato resta in questo momento per il saluto evidentemente vi auguro buonissime cose buonanotte fate i suoi livelli e grazie ciao ciao grazie ciao buonanotte a tutti buonanotte 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 santo ciao 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 resta che sei entrato adesso